benvenuti a mappamundi oggi parliamo del caso putin che il titolo del nuovo volume di limes rivista della legge politica ne parliamo con lucio caracciolo qui in studio direttore ovviamente di limes e orietta moscatelli la nostra esperta di russia scan news limes scuola di limes ciao rietta buongiorno a tutti ciao allora lucio il caso putin questo è il terzo volume di limes dedicato alla guerra in ucraina temo che non sarà una trilogia ma insomma continueremo in un modo o in altro ma insomma questo volume ovviamente fin dal titolo si concentra no su putin chi è putin chi è plattof no il lato fe lo pseudonimo che putin ebbe quando entrò nella scuola del kgb dove c'era questa usanza di punto mascherare il nome effettivo dell'allievo prendendo l'iniziale del cognome poi in libertà ma a parte questo appunto è importante ricordare che fondamentalmente putin nasce come spia la sua esperienza di stato è un'esperienza che parte dall'intelligence è anche un'intelligence piuttosto attiva perché lui fu in particolare a dresden germania est fra le altre cose anche il referente della rota armé frazione cioè di quel gruppo terroristico che è noto per i notevoli attentati che compiù che compì in germania occidentale ciò detto putin è qualcosa di particolarmente rilevante nel sistema russo perché soprattutto negli ultimi anni è riuscito ad accentrare sulla sua persona un potere abbastanza raro anche in un paese molto accentrato come la russia e questo rende lo studio della sua figura della sua personalità dei suoi progetti molto importante per capire quello che succede oggi è orietta allora putin probabilmente uno dei leader mondiali oggi che ha maggiori poteri che accentra maggiori poteri ma comunque anche qui c'è un sistema di potere no attorno a putin tu ti sei dedicata molto a quello che è tutto il sistema di potere che è cambiato ovviamente nel tempo com'è la situazione oggi quella situazione oggi diciamo è una logica conseguenza ma anche un'estremizzazione delle dinamiche all'interno del sistema di potere putiniano che abbiamo visto negli ultimi dieci anni fondamentalmente quando con laura canali avevamo pensato per questo numero di aggiornare una carta ormai è diventata un grande classico all'imes quella della galassia putiniana poi ragionandoci un po sopra in realtà si è arrivati ad una carta ad una rappresentazione completamente nuova perché cosa è successo negli ultimi anni e con una accelerazione e una estremizzazione molto evidenti negli ultimi tempi anche insomma a causa della della guerra della fase bellica è successo che i rappresentanti gli esponenti di quel gruppo che noi chiamiamo comunemente ormai il termine lo conoscono tutti si lo vichi cioè gli uomini forti gli uomini dei ministeri di maggiore peso la difesa l'intelligence gli interni e che sono in buona parte sono in buona parte poi la base di potere fin dall'inizio del sistema putiniano oggi hanno il dominio assoluto del paradigma di potere che si è creato a mosca e sia per quanto riguarda la scena internazionale la politica estera e nello specifico chiaramente la guerra ma anche per quanto riguarda la gestione dell'ordine dell'ordine interno quindi complessivamente possiamo dire che il potere putiniano è stato militarizzato diretta conseguenza di un crescente senso di assedio che sappiamo è andato aumentando insomma dal già dalla fine del primo mandato putiniano dal famoso discorso di monaco 2007 poi e che è estremizzato dalla fase bellica in corso allora a proposito di fase bellica in corso io volevo mostrare appunto la carta di laura canali l'invasione russa aggiornata della situazione vedete appunto abbiamo parlato tanto in varie trasmissioni del donbass della crimea della provincia dell'oblast di kerson di fatto di questa insomma la russia dovrebbe riuscire a collegare la crimea con il donbass avere quindi una prima diciamo un prima prima conquista io volevo mostrare anche questa carta che abbiamo utilizzato fin dai primi volumi su questa guerra c'è la nuova russia secondo putin che forse è l'obiettivo massimo che può raggiungere putin e che forse si proponeva fin dall'inizio però abbiamo anche una data lucio il 9 maggio la grande parata militare cioè riferimento alla vittoria di stalin dell'unione sovietica nella grande guerra patriottica nella seconda guerra mondiale che è diventato un po allora è tutto un termine temporale perché molti hanno detto potrebbe essere l'occasione per putin no di mettere un punto in questa guerra e se riesce a raggiungere diciamo un obiettivo minimo no potrebbe essere quella una data e quindi la prima domanda per entrambi è se il 9 maggio potrà succedere qualcosa del genere ma anche un riferimento storico e culturale cioè la nuova russia di putin ha come riferimento quello cioè momento culmine dell'espansionismo dell'unione sovietica che lui vede però in ottica russa sì allora innanzitutto precisiamo perché le carte che noi facciamo non implicano che i territori che noi mettiamo in qualche modo sotto influenza russa siano totalmente controllati i russi come d'altronde anche gli ucraini nella loro parte controllano i punti nodali e le infrastrutture ma non tutto quello che sicuramente da ora controllano è la strada e l'autostrada che porta dalla russia direttamente attraverso il donbass alla crimea cioè oggi tu prendi l'automobile e da mosca a sebastopoli ci vai in un modo in un altro e questo può essere già segnalato come una vittoria però tu dicevi un punto io penso che sarà un punto e virgola ovviamente il 9 maggio perché questa storia è destinata ahimè ad allargarsi e probabilmente anche al di là del teatro ucraino ma questo è un altro discorso certamente l'idea della nuova russia è un'idea fondante decisiva che va anche al di là della persona di putin è ormai entrata nel sistema russo per realizzare però quel progetto ci vogliono più forze e allora qui c'è questa voce che gira da un po di tempo per cui il 9 maggio putin potrebbe proclamare la mobilitazione generale in parole povere richiamare 700 mila fra soldati di leva riservisti e quant'altro e mandarli al fronte a me fra pare francamente un'operazione troppo rischiosa perché a quel punto l'opinione pubblica rischierebbe di non seguirlo più specialmente l'opinione pubblica delle grandi città di mosca san petroburgo finché l'armata è mezzo mongola mezzo cecena è un discorso ma se tu devi mandare i ragazzi di san petroburgo e di mosca o di arcangelo a combattere sul fronte ucraino lì qualche problema ci sarebbe certo ricordo che quando stalin celebrò la rivoluzione d'ottobre nel novembre 41 fece sfilare i soldati poi li mandò al fronte ma non credo che questo sia il caso e orietta allora il 9 maggio sia come termine temporale immediato e ma sia come riferimento per putin no storico e culturale sì per l'immediato sono d'accordo con con il direttore insomma la mobilitazione generale è un problema sarebbe un problema proprio in prospettiva in termini di tenuta del sistema di potere è probabile non è studo e non è non sarebbe una piccola cosa che comparirà dopo tanto tempo in cui la parola guerra vaina non è ammessa non è ammessa per descrivere quanto sta accadendo in ucraina che invece si passi si arrivi ad una qualche forma di dichiarazione di di guerra di guerra vera e propria sarà certamente una celebrazione aspettiamoci qualcosa di insomma di molto anche teatrale della patria in in guerra oggi come allora contro i nazisti insomma sappiamo che poi questo questo paragone è stato ampiamente usato nel nel discorso per vendere anche sul fronte interno alla guerra ma la patria è il il nucleo il nucleo ne parliamo in questo in questo nuovo numero di limes il nucleo stesso il nocciolo duro il nocciolo atomico del del putinismo che oltre ad essere un sistema di potere e quindi un ingranaggio tra l'altro candidato a sopravvivere al suo stesso di miurgo perché con la nuova costituzione rinnovata nel 2020 questi poteri de facto senza fine putiniani di cui parlava prima il direttore passano anche al prossimo presidente chiunque sarà ma perché il putinismo è anche un assetto quasi una quasi ideologia una un incrocio un incastro di valori cosiddetti tradizionali conservatori che sono quelli della patria delle radici cristiane quindi della della famiglia ma la patria è chiaramente il valore centrale ed è in fondo la stessa ideologia di putin cioè alla fine se noi vogliamo dire in cosa consiste il nucleo ideologico negato o comunque non compiuto del putinismo negato anche perché la costituzione dieta di avere una ideologia di stato oggi alla russia post sovietica il l'ideologia di putin è la patria è la russia quindi si concretizza quello che che diceva con suscitando ampio scandalo in perplessità in occidente viace slava lodin nel 2014 senza la senza putin non c'è la russia noi abbiamo sempre sostenuto a lui a limes che piuttosto senza la russia non ci può essere un putin come lo vediamo oggi con la guerra in corso le due cose tendono a collimare a unirsi allora io intanto volevo mostrare quest'altra carta del volume di limes in mandato se lo vedete la strada di cui parlava appunto lucio caraccio l m14 che vedete qui in giallo tratteggiata che appunto passa da mariupol no che è un po il luogo di cui abbiamo parlato tante volte questi giorni lucio però io tornerei a putin allora si può parlare di putinismo e soprattutto si può parlare di un'ideologia e di un'ideologia esportabile cioè negli anni scorsi abbiamo visto anche in europa movimenti che facevano riferimento anche in italia facevano riferimento no a quei valori quindi il putinismo può diventare un qualcosa che in futuro è esportabile o questa guerra a reciso secondo te questo rapporto se putin nella russia e la russia è putin difficilmente si può esportare questo in francia o alle bahamas chiaramente è un'ideologia putiniana russa e quindi forse non è nemmeno un'ideologia semplicemente l'auto identificazione con la patria il che non vuol dire che morto putin muore la russia intendiamoci anzi quello che è importante però è capire il progetto di putin e su questo nel numero che leggerete troverete in edicola c'è un importante articolo di feodor lukhianov che è uno degli intellettuali più brillanti anche ascoltato da putin il quale ci spiega che questa guerra termina una fase storica la fase storica in cui la russia inutilmente vanamente bussato alla porta dell'america per essere in qualche modo accolta nel sistema americano e ora invece ha deciso di sparigliare completamente le carte in questo modo brutale e drammatico che è la guerra in ucraina cioè si tenta di dissolvere definitivamente l'ordine americano immaginando un occidente in declino e ricostruire un nuovo ordine in cui la russia sia all'avanguardia naturalmente insieme alla cina insieme all'india insieme a pezzi di ex terzo mondo quindi la russia ha una funzione di rompighiaccio per aprire la strada a un nuovo sistema internazionale questa è la visione delle elite russe attualmente al potere allora io ricordo appunto lukhianov sarebbe stata la prossima tappa ruccio quindi ormai andiamo in automatico il però ricordo che per chi non la conoscesse bene l'imes una rivista di due trecento pagine dove ci sono 20 30 articoli diversi punti di vista in questo volume ci sono punti di vista autori russi autori ucraini vari punti di vista perché uno dei doveri dell'anista geopolitico come ricordavi alla scuola di limes è immergersi anche nel punto di vista dell'altro per capire appunto cosa vuole fare l'unico è l'unico mezzo che abbiamo per cercare di capire e analizzare e quindi questo articolo appunto fondamentale di lukhianov forietta e sottolineava lucio appunto un cambio di fase storica quindi una guerra che va al di là insomma di quello che è il confine impero zarista non impero zarista ritorno della russia nell'ottica russa si chiude un'era l'era cioè del tentativo di far entrare la russia nel sistema occidentale nel sistema europeo e ne apre un'altra piena di incognite c'è una sfida globale una sfida globale infatti è molto interessante come fiodor lukhianov insomma che rimane a mio avviso il fuori classe del degli analisti russi e che spesso anche negli anni passati ha un po' anticipato quale sarebbe stata la linea la traiettoria eh poi seguita eh dalla dalla russia nel nell'immediato in questo caso non anticipa eh una traiettoria ma ci dà una lettura che è la lettura molto in voga in questo momento ai vertici russi eh del sentire profondo geopolitico della della russia insomma si arriva abbastanza facilmente l'abbiamo sentito anche dallo stesso Vladimir Putin ha dei toni eh abbastanza messianici però nel concreto poi lukhianov ci parla della fine di un esperimento cioè quello del tentare di trovare una compatibilità della della russia con il sistema il sistema con l'ordine eh americano post guerra fredda esperimento dichiarato concluso fallito e l'apertura di un altro esperimento che è quello appena descritto insomma da Lucio Caracciolo del del tentativo russo di proiettarsi in un nuovo ordine ordine mondiale dove potrà contare sia perché ha fatto appunto da rompighiaccio e sia perché sarà un mondo necessariamente un ordine necessariamente eh mulcolare trovo molto interessante innanzitutto che si che lo stesso autore di questo importante articolo parli in termine di esperimento e che poi si rifaccia sottolinei ammetta eh questa attrazione spesso fatale che la russia ha avuto nei nei secoli per gli esperimenti 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 che implicano il mandare tutto in aria e rompere e far saltare il banco e anche il mettere in conto eh consistenti sacrifici in certezza e instabilità a venire e questa e questo è il messaggio che in Vladimir Putin sta cercando di far passare che per il momento sembra abbastanza recepito cioè quello del è finito un tipo di vita ehm siamo entrati in una nuova fase meno agiata meno occidentale ma davanti forse eh avremo eh quello che abbiamo cercato in varo per trent'anni. E così rispondiamo pure a qualche sollecitazione sul canale no? Qualche domanda che è arrivata del tipo ma possibile tutto questo per una regione che è grande come Lombardia, Piemonte, Liguria no? Dice tutto questo questo cambiamento perché a parte che si sono fatte anche guerre per molto meno però da parte questo il eh però il discorso appunto è globale però abbiamo anche nel volume il punto di vista americano no? Conatori americani Lucio in particolare si fa riferimento al solarium cioè ehm brevemente il solarium siamo nel periodo di Asenauer della guerra fredda con l'Unione Sovietica è un'esercitazione che però di fatto è un punto fermo dove viene eh stabilita una strategia americana nei confronti dell'Unione Sovietica è uno dei pochi casi in cui abbiamo appunto un proprio un come dire un incontro fisico che realizza questa strategia. Ora perché l'IMES parla di nuovo solarium? Sono due autori americani che ne parlano il solarium era appunto l'esercizio cui facevi riferimento promosso nel 53 quindi appena morto Stalin in cui Eisenhower ha diviso i suoi vari esperti militari intelligence in tre gruppi in tre squadre una per il contenimento cioè sostanzialmente accompagniamo l'Unione Sovietica verso l'autodistruzione una verso quello che si chiama il rollback cioè sostanzialmente aggrediamo in qualche modo anche se non con la guerra totale l'Unione Sovietica e poi una via intermedia e alla fine del ragionamento Eisenhower dice io sono con la squadra A la squadra del containment perché la cosa peggiore che può succedere in una guerra globale non è perderla e vincerla perché se noi vincessimo quella guerra dovremmo accollarci l'Unione Sovietica e questo significerebbe primo che gli americani non lo vorrebbero fare secondo eventualmente per farlo dovremmo diventare uno stato caserma ed è quello che noi non vogliamo essere e questo tema potrebbe riproporsi nel caso in cui la Russia veramente in questi suoi esperimenti un po' alla rompiti il collo portasse a termine il risultato apocalittico che è dietro questa visione cioè appunto muoia Sansone con tutti i filistei a quel punto morendo la Russia si apre il problema oltre all'Ucraina si apre il problema di chi controlla quell'enorme spazio ripeto la partita come tu dicevi si svolge apparentemente nel Donbass ma ha delle dimensioni assolutamente globali e a proposito di globali siete d'accordo insomma Stati Uniti e Russia forse avevano una visione abbastanza simile di come sarebbe andata la guerra poi è successo qualcosa perché gli americani si erano spostati diplomatici a Leopoli il progetto di Putin vedeva appunto una Leopoli tra l'altro è stato suggerito da parte russa più volte che insomma quella regione polacca quasi c'è il suggerimento alla Polonia di potersi di appropriarsi di quel pezzo di Ucraina e poi è successo invece forse qualcosa un'aspettata resistenza all'Ucraina o forse difficoltà che incapacità delle forze armate russe però ecco anche gli americani si aspettavano probabilmente di rintanarsi a Leopoli e di perdere quello che era il resto dell'Ucraina o forse ancora può succedere magari può succedere mi pare difficile però certamente l'idea è ormai sappiamo anche un fatto i russi erano pronti a prendere hanno mandato pure a quanto pare dei paracadutisti a catturare o ammazzare Zelensky e gli americani volevano sfiltrarlo fare un governo in esilio magari appunto a Leopoli perché come appunto Putin disse già a Bush figlio nel 2008 l'Ucraina non esiste sono un pezzo è mio un pezzo non si sa di chi e un pezzo è Polonia sarebbe l'Ucraina occidentale centrata su Leopoli quindi tutti i diplomatici occidentali che prima della guerra qualche un paio di settimane prima si sono appostati da Kiev a Leopoli quindi contraddicendo alla legge protocollare della diplomazia che impone che l'ambasciata sia nella capitale evidentemente hanno pensato che Leopoli sarebbe diventata la capitale di un'Ucraina indipendente in attesa di riconquistare il resto. E beh non tutti i progetti riescono allora io tornerei in conclusione per entrambi alla figura di Putin e ci sono due incontri importanti che vengono citati uno nell'editoriale e uno nel volume di Limes e volevo mostrare appunto due foto questo è l'incontro con Kissinger che tu descrivi non è questo ovviamente questo è successivo una visita però i due si conoscono già da quando Putin non era ancora nessuno sostanzialmente era ancora assistente di Solchak a San Pietroburgo e questo invece è Solgenitsyn quindi l'incontro con quello che probabilmente è anche un riferimento culturale di Putin e immancabile ormai questa che è una foto simbolo l'abbiamo visto con Macron qui e con Scholz ma anche con i principali collaboratori di Putin questa distanza, questo isolamento di Putin raffigurato da queste foto. ecco allora in conclusione per entrambi le figure di Kissinger perché l'uso è importante per Putin? Dunque incontro 92 aeroporto di San Pietroburgo arriva Kissinger che è un signore abbastanza noto, Putin lavorava per il sindaco Sapciak che era una personalità piuttosto prorompente e va a prenderlo all'aeroporto e Kissinger che è un signore piuttosto curioso gli chiedeva ma lei chi è, che cosa ha fatto eccetera, lui gli racconta che è stata una spia e Kissinger gli fa, beh tutte le persone per bene nascono sempre come spie, infatti anch'io sono stato una spia, riferendosi al fatto che Kissinger da ragazzo ma veramente da teenager era in Germania a interrogare per l'esercito americano i criminali nazisti e fra i due si crea una qualche simpatia, fra l'altro concordano entrambi sulla follia di Gorbaciov, cioè Kissinger dice io ancora non ho capito perché questo signore ha voluto distruggere l'Unione Sovietica e Putin commenta, sono d'accordo, anch'io non riesco a capirlo. E invece allora, intanto se vuoi dire qualcosa anche tu su Kissinger, ricordo anche l'accento fortissimo tedesco di Kissinger, quindi questo sarà stato anche un altro motivo di empatia d'incontro con Putin, ma anche Solzhenitsyn insomma, che cosa rappresenta nell'immagine russa? Sì, diciamo su Kissinger non credo ci sia bisogno di aggiungere niente, su Solzhenitsyn, nel senso Solzhenitsyn effettivamente è un'altra strana, forse insospettabile se si conosce la figura di Solzhenitsyn fino all'inizio, simpatia e empatia insomma con Vladimir Putin, questo ex dissidente sovietico, colui che ci ha documentato il gule staliniano, in realtà quando incontra le posizioni di Putin e le appoggia nella forma insomma più del nazionalismo russo fondamentalmente e in particolare incontra e approva le posizioni e le rivendicazioni di Putin sull'Ucraina, in realtà questa simpatia tra Solzhenitsyn e Putin dura poco, anche se il presidente russo ogni tanto insomma assicurava di far sapere che lo andava a trovare eccetera, quando Solzhenitsyn è morto, grandi onori e riconoscimenti, ma c'è proprio questa base comune molto forte sulle posizioni dell'Ucraina che ci dice tra l'altro quanto probabilmente in generale in occidente ma in particolare gli americani abbiano sottovalutato quanto l'Ucraina racconti e quanto sia importante nella visione e anche nella percezione che la Russia ha di se stessa. È veramente un pezzo, considerato un pezzo di Russia, tanto che le grandi sottovalutazioni e i deficit di conoscenza e anche strategici che abbiamo visto all'inizio di questa guerra in Ucraina sono probabilmente in parte spiegabili col fatto che a Mosca si continua a pensare che prima o poi l'Ucraina debba tornare casa, cosa che dal 2014 in realtà possiamo considerare un desiderio meno che pio. Certamente, poi c'è anche il fatto che noi tendiamo a immaginare che i dissidenti in epoca sovietica fossero dei liberali occidentali, mentre una buona parte di loro erano degli ipernazionalisti russi. Solvhenitsyn è un campione del nazionalismo russo e anche del tradizionalismo se vogliamo, non è che non gli piaceva l'Unione Sovietica in quanto impero russo, non gli piaceva in quanto comunista fondamentalmente e questo, come diceva adesso Rietta, è importante perché il perno di tutti i ragionamenti del nazionalismo russo dal punto di vista geopolitico è l'Ucraina, nostra culla, città madre, Kiev eccetera. A Kiev probabilmente non ci torneranno, però un pezzo di Ucraina ormai credo che lo abbiano acquisito. Eh sì, infatti Putin tra l'altro è molto critico nei fronti di Lenin, di quello che è successo, anzi l'Ucraina è proprio il simbolo di quello che ha fatto l'Unione Sovietica c'è anche una bella carta sui regali. C'è ancora una porta di antisemitismo, perché è tutta colpa degli ebrei, oltre che dei comunisti, che hanno minato l'impero russo dall'interno, Trotsky, tutta questa gente che loro detestano cordialmente. Quindi anche qui l'Unione Sovietica non è solo la continuazione dell'impero zarista, ma c'è anche una critica russa all'Unione Sovietica, ma questo lo troverete nel volume di Limes, come troverete un dossier anche importante sulla Cina, ma di cui parleremo in un'altra puntata con Giorgio Cuscito sicuramente. Io ringrazio Rietta Moscatelli, ringrazio Lucio Caracciolo. Ah, ricordiamo ovviamente il volume lo trovate prima di tutto già la prossima settimana sul sito, per chi è abbonato potrà leggere tutti gli articoli e poi ovviamente in edicole, in libreria, come al solito. Quindi ancora grazie a Lucio Caracciolo e a Muscatelli e ai prossimi appuntamenti. Grazie. Grazie.